Il bello di essere coinvolto nella realizzazione di un film sta proprio nel poter costruire insieme al regista una tela dentro la quale si muovono i personaggi. Nel caso per esempio del pataffio io ho avuto modo di scrivere i temi prima che venisse girato il film e quindi il film era già impostato su un'atmosfera che era vicina a quella delle mie musiche quindi mi sono sentito coautore, è un grandissimo privilegio. Grazie, ciao. Grazie.